Comincia tutto da qui vuol dire idealmente il nostro sguardo di oggi verso il futuro La Premoto 3 è la categoria di ingresso al mondo dei grandi A Cifri significa correre appunto a Misano, a Vallelunga, a Imola, a Mugello, piste da mondiale e lo fanno su una moto prototipo molto vicina come prestazioni e poi quella che sarà la Moto 3 che è la prima moto di categoria mondiale che incontreranno magari un giorno nel loro cammino Per questo i ragazzi sono qui, sono all'interno di un progetto molto chiaro e definito Voglio ringraziare tutta la federazione che mi ha dato questa possibilità che un domani li deve portare nel mondo professionistico il più possibile pronti ad ottimizzare e a rendere più efficace possibile il talento che ha Comincia tutto da qui